Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Nicolò e sono uno studente del terzo anno del corso di laurea in informatica all'Università dell'Insubria. L'Insubria è stata la continuazione del mio percorso di studi, quello che avevo già scelto da parecchio tempo e che ho deciso di culminare all'Insubria. Per me è stata un'opportunità interessante di conoscere tante persone e di proseguire verso quello che era la mia destinazione futura a livello lavorativo e a livello di passione. E ho trovato esattamente quello che cercavo sia a livello di corsi che a livello di professori che a livello di conoscenze di ogni tipo.